Sono state presentate a Cosenza nella sala conferenza del Museo dei Bretti e degli Enotri le attività socioculturali che si svolgeranno nella prestigiosa struttura museale che è stata inclusa dalla Regione Calabria nell'elenco dei beni della rete, delle eccellenze e dei beni culturali regionali a seguito dell'avviso pubblico per lo sviluppo di attività imprenditoriali all'interno delle filiere, della valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale, un progetto finanziato con fondi POR. La gestione delle attività didattiche, della biglietteria e della caffetteria. Questo presentiamo oggi, questi nuovi servizi che consentiranno appunto di ampliare la nostra offerta culturale grazie ad un bando regionale per l'acquisizione di progetti di giovani imprenditori che sono stati selezionati dalla Regione Calabria, a cui noi abbiamo aderito come struttura d'eccellenza essendo rientrati in un elenco delle strutture d'eccellenza della Regione Calabria. E questo ci fa molto piacere perché naturalmente, sebbene il museo abbia sviluppato una serie di iniziative e di attività nel corso di questi anni da quando è aperto, comunque abbiamo bisogno dell'apporto dei privati per poter migliorare quantitativamente e qualitativamente la nostra offerta. Intanto con l'apertura del Castello Svevo, che ha dato la possibilità della riapertura e della fornitura dei servizi attraverso una società privata, ed ora anche il Museo dei Bretti. Una sinergia importante è quella fra le amministrazioni pubbliche e privati che consentono a delle strutture pubbliche di rilevanza importante di aprirsi alla città, ai cittadini, alla fruizione di nuovi servizi.